e yuki aspetta ma perché ho dato la mia banana yuki no non è piaciuta come no ho dato una banana no mi fa fidanza con te mi fai schifo no 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 che schifo madonna mi sentisse che vergogna no mi vergogno No Miserabile plebeo Che stai facendo qui con la principessa Anka E tu chi saresti Oh nessuno in particolare Solo il suo promesso sposo E' promesso una mezza calzetta come te Per portarlo all'altare E cosa farei per impedirmelo Ridaglielo No il cannolo è preferito Ma come Ma basta Non vai mai indietro Mi ha il senso fortissimo Naruto ha perso Signore Yes It's Time For Buua Che stai accendo con il mio uomo? Lui voleva parlare con me Lui voleva fare il fichi fichi con me Che stai accendo con me Challahanran La mona La mona Cinderace 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 Il quadro Cinderace Il quadro Il quadro Che stai accendo con me Lui Che stai accendo con me Che stai accendo con Cinderace viva e mi sento sì ogni tanto e dati gli spiriti oh mio dio è terribile che qualcuno mi aiuti oh no si va best wife your what non è come sempre aiuta oh mio dio io non penso io non penso io non penso io non erano pesa rano chiono brutta faccia quando è butta la faccia amore odio omg oh mio dio mio donno odio odio tu hai kelly kelly scrive le lettere ci vuoi te no è tornata è finalmente è tornata finalmente finalmente la mia cuoca la mia cuoca però ho detto che è nessun di te infatti mi conosci si te con i piedi per terra bu sei bene no 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 non ci credo no non ci credo mi intaccio giulia aspetta ti aiuto dai tira fai giulia i piedi per il madocca no l'amburger ha rimesso cazzi dell'aiuto questa vuole dei diritti ma che c'è io mi fido una volta di questa ti sta scappata di casa un attimo come stavo ladi ciao vuda ma comunque ladi sono i giochi in digitale del lishop niente di che no ladi non devi dire no no ladi ti devo dire no siamo tornissimi niente di me no 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 ladi no 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 ladi oh oggi compie uno di più persone ah 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 fungitemi ah 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 Io non so fai Io non so fai Io non so fai Io non so fai